L'ambiente è al centro del prossimo servizio. L'Unione fa la forza e gli assessori all'ambiente di 14 comuni della provincia lo sanno bene. Vicenza capofila del gruppo. L'obiettivo coordinare le azioni legate all'ambiente, alla lotta, all'inquinamento. Il primo incontro per il nuovo anno di programmazione delle strategie a Palazzo Trissino. In primo piano l'adesione al Move In su stimolo della Regione Veneto. Che cos'è il Move In? È un'adesione volontaria, anche questo deve essere molto chiaro. Il cittadino volontariamente affitta una scatola nera, una black box, e con quella monitora e registra i chilometri fatti se ha l'auto inquinante. Quindi un'auto inquinante che normalmente non potrebbe girare potrà circolare con un contingentamento abbastanza limitante di chilometri, a partire dai mille chilometri all'anno.